Amici abbiamo invaso la redazione di Automobilismo per uno degli appuntamenti che catalizzerà la vostra attenzione. Eccolo qui, il numero in edicola con la Golf 7 ma tantissime altre prove di Automobilismo. Sono con Fabio Madaro e Dario Chiozzotto. Allora, Golf 7, parliamo di un'avventura, Fabio, che ha veramente contraddistinto gli ultimi 40 anni. Quando è nata? Nel 74? Nel 74. Sì, parliamo di un mito dell'automobile, in particolare una macchina che praticamente ha caratterizzato gli ultimi 40 anni della nostra storia, della storia europea, ma non solo. L'automobile è un'automobile che tutto sommato ha anche un po' di made in Italy, perché la prima versione del 74 era di Giorgetto Giugiaro, l'ultima è di De Silva. Per cui, insomma, è una macchina anche un po' italiana, se vogliamo. Quanti sono i numeri? Nel frattempo, vi parliamo dalla redazione di Automobilismo, questa è una caratteristica, insomma. Si parte da qui, è una sede meravigliosa, un centro prove che sarà messo a dura prova da questa rubrica, per cui a maggior ragione ci piace ospitarvi all'interno della loro redazione. Una vettura che però nel corso degli anni ha venduto non so quanti esemplari. Siamo sui 30 milioni di esemplari, dalla prima alla sesta. Vettura che è ereditata poi dal Maggiolino, no? Sì, sì, testimone, è passato dal Maggiolino alla Golf e questa vettura, ripeto, ha attraversato questi anni in splendida solitudine dal punto di vista commerciale, nel senso che è sempre stata la numero uno o quasi sempre stata la numero uno nelle vendite, al punto da totalizzare 30 milioni di esemplari. Incredibile, senti, l'hai provata tu Dario, la Golf 7 o no? Io l'ho provata in Sardegna come primo contatto durante le prime impressioni di guida e diciamo che la sostanza c'è, è molta, certo dal punto di vista estetico è un po' conservativa, non è una rivoluzione, più che altro è stata di un'evoluzione, ma i contenuti ci sono tutti, a partire appunto dal 2 litri TDI da 150 cavalli, che poi il nostro banco ne ha raggiati i 160, è una vettura comoda, silenziosa, prestazionale, insomma una degna erede delle precedenti sei generazioni. Senti Fabio, però lui era piccolino quando nel 74 quella vettura arrivò e sconvolse gli animi di genitori che al semaforo riuscivano a battere le Porsche nello spunto, insomma è stata una vettura che ha segnato veramente tanto a alcune generazioni. Questa rispetto a quella là è ancora in grado di suscitare certe emozioni, è una vettura molto più fredda, molto diversa? Ma per certi aspetti tutto è cambiato, per cui è cambiato anche l'approccio che la gente ha nei confronti delle autovetture e delle automobili, per cui le stesse emozioni sarà difficile che questa settima generazione potrà suscitare, insomma. Arriverà la GT, per ora non c'è ancora, però arriverà poi la GT, probabilmente la versione R, per ora si tratta di motori molto, tra virgolette, normali, le versioni più prestazionali arriveranno durante il 2013. Ma infatti era proprio questo, scusa, non ti voglio interromperlo, vedi che lo è esordito di 100.6, il nuovo motore, 2.150 cavalli, ai nostri tempi, quando è uscito il GTI aveva quel 1.6 fulmineo, insomma il turbodiesel sarebbe arrivato dopo, però era il 1.6 benzina che colpiva i nostri sogni. Volevo infatti dire che poi la Golf ha, come dire, creato anche dei sottosegmenti fondamentali per la storia dell'auto, appunto con la GTI che diventò il nostro, diventava il nostro sogno. Ma è tuttora che donò un simbolo, quella cronica come lì è ancora… Esatto, poi la GTD che rappresentava l'evoluzione in chiave, se vogliamo, semisportiva o parasportiva del turbodiesel, anche quello fu un'esplosione dal punto di vista commerciale e della moda. Per cui la Golf ha creato anche dei sottosegmenti importantissimi, delle nicchie che tuttora vivono in ambito commerciale, nel modellare. Tra l'altro, correggetemi se sbaglio, sbaglio sicuramente, però quel GTD lì è stato il primo motore che ha trasferito un po' la sportività del turbodiesel su una vettura di serie, a tutti gli effetti. Sì, esatto, è una tradizione che poi è continuato, ma non hanno mai smesso di sviluppare anche i motori a benzina con il compressore, il turbo, insomma una grande ricercatezza anche tecnica dietro a questo modello. Volkswagen poi, soprattutto con Golf, aveva iniziato a portare questi motori di cubatura più piccola rispetto allo standard, a benzina, con dei turbocompressori. Va ancora bene questa regola per la Golf 7? Assolutamente, il downsizing è la legge fondamentale degli ultimi anni, appunto ridurre la cubatura, che vuol dire ridurre i consumi, vuol dire ridurre soprattutto le emissioni, quindi il futuro è quello. Se stiamo all'arrivo dei tre cilindri, il bicilindrico addirittura sulla 500, quindi la Golf si inserisce in questo filone tecnico, diciamo. Posso chiederti Fabio una domanda fastidiosa, qual è stata la Golf più brutta? Perché è inutile negare che c'è stata qualche serie che non è riuscita molto bene. Vado a opinione personale, io credo la 6, cioè la penultima, quella che esce adesso di produzione, non so gli altri, non so i colleghi. No, De Silva durante la presentazione disse che la più amata fu sicuramente la 4, la quarta generazione come successo commerciale, cioè in Volkswagen la reputano diciamo una pietra miliare, più di tutte le altre, siamo ovviamente alla prima. Forse io metterei la quinta generazione, quella che è un po' più tiepida, quella che mi ha emozionato di meno. La sesta forse valeva già qualcosina in più, forse è un gusto, c'è un'opinione personale comunque. Posso dirvi un'altra mia impressione? Non voglio essere cattivo per forza, però il fatto di comprare una Golf, magari con un propulsore di queste ultimissime generazioni, un grandissimo turbo diesel, anche una R se uscirà come diceva Dario, e avere lo stesso muso di un Volkswagen Caravelle, di un transporter, insomma a me un pochino mi fa storcere il naso, non lo so, chiedo però, è qualcosa che percepite anche voi o no? Il Caravelle è forse eccessivo. Sì, diciamo per esempio l'Apolo, però è vero quello che dice che i frontali Audi e Volkswagen sono negli ultimi anni molto conservati, molto simili tra di loro, quindi sì, in effetti non è forse un'auto che punta tanto a emozionare quanto ai contenuti, ecco questo è in dubbio. Poi per quanto riguarda proprio l'estetica, hanno molto paura forse di cambiare un modello di questo successo, cioè stravolgere completamente una vettura venduta in milioni di esemplari potrebbe essere molto molto rischioso, come ha fatto per esempio con la Civic, la Honda, cioè stravolgere appunto una media di questi livelli è molto economicamente, commercialmente un grosso rischio, quindi preferiscono stare sui binari della tradizione. Vi parlo di concorrenti, qual è la più accreditata per minare il successo della Golf? Esiste una vettura in grado? Parecchi, ci sono i francesi, ci sono gli italiani, gli stessi, la stessa Giulietta per esempio, che è un'ottima macchina e che dà fastidio alla, perlomeno in ambito italiano, dà fastidio alla Golf. Ripeto, ci sono tantissimi concorrenti... Ma a livello di qualità, di qualità costruttiva, di prodotto, si avvicinano i concorrenti alla Golf? È possibile avvicinarsi o che cosa rende la Golf ancora inattaccabile? Il fatto che nasca dalla stessa piattaforma dell'Audi A3, quindi loro hanno questa grande fortuna di sfruttare molti componenti in comune con Audi e quindi il livello della qualità costruttiva è molto, molto, molto elevato, quindi anche produrre in larga scala permette di contenere i costi e sicuramente il livello, cioè diciamo che è un punto di partenza anche per molte altre case, cioè un punto di arrivo, scusa, per molte altre case, quindi il livello è molto, molto elevato, soprattutto su questa settima generazione, il balzo generazionale è molto più forte dentro che diciamo dal punto di vista della linea. Sicuramente il balzo generazionale qualitativo dei tedeschi, per usare una frase trita e ritrita, ma è sicuramente evidente, specialmente in Volkswagen e Audi, che hanno scavato questo solco rispetto alla concorrenza che deve essere colmato, ma al momento non sono ancora riusciti. Secondo voi crisi a parte, insomma il mercato è sicuramente devastato in questo momento, ci aspettiamo una ripresa, speriamo che arrivi presto, ma il giovane, ammesso che se lo possa permettere, ha ancora il sogno della Golf secondo voi? Beh, a giudicare dai primi mesi di visita sì, sicuramente, perché piace molto, piace molto anche in Italia, quindi sì, adesso appunto forse le versioni più prestazionali avvicinano ancora di più il pubblico più giovane, però sicuramente sì, secondo me è ancora ambito, è molto ambito come modello. Magari non è più la Golf di 30 anni fa, ma è sempre una cosa molto importante dal punto di vista del sogno, dell'oggetto, del desiderio. E poi tutto sommato, un'ultima cosa, non è nemmeno cara, perché la versione d'accesso costa circa 18 mila euro. 18 mila euro, allora ritorno ad essere cattivo, ma nel recente passato, quando le cose andavano bene, non è che ci hanno strappato un po' troppi soldi per le macchine, adesso tutti si accorgono che forse le pagavamo troppo? Certo, assolutamente sì, ne siamo convinti anche noi, purtroppo le case hanno questa pessima abitudine, quando un modello va bene alzano il prezzo, alzano il listino, ma questo è generalizzata, non è un'accusa che stiamo facendo alla Golf piuttosto che a Volkswagen, tutti, quando un modello funziona inevitabilmente il listino si alza. In tempi di vacche magre i listini si asciugano e diventano un po' più coerenti con quello che è. Va bene, allora Mario, adesso dopo il break andremo a conoscere la Golf 7, quale sarà la comparativa che farete? Adesso l'avete provata in anteprima, con quale vettura avrete voglia di metterla a confronto utilizzando il vostro banco prove e tutto il resto? Probabilmente molto interessante sarebbe un confronto forse con la 4 Focus, con la Giulietta, penso in testa, poi altri modelli, forse un confronto in casa con la 3 non sarebbe male, vedere anche se vale la differenza di prezzo di listino rispetto alla sorella Audi. Va bene, allora Fabio, dopo il break ci ritroviamo con la prova della Golf 7 e poi per altri appuntamenti con la rubrica di automobilismo dalla loro redazione che è questa, il numero Enedicola. Torniamo dopo il break.